E' stata presentata nella sala Maurizio Quintieri del Ridotto del Rendano di Cosenza l'iniziativa Rime per un Sogno a cura dell'associazione di volontariato Bracciaperte in collaborazione con lo SPCGL di Cosenza e l'Auser di Cosenza che si svolta il 5 gennaio con un concerto di beneficenza che ha visto l'esibizione di Amedeo Minghi e Giuseppe Cascella, il cui ricavato servirà alla donazione di un ecografo. Rime per un Sogno è un'iniziativa nata dalla nostra associazione Bracciaperte che ha voluto coniugare la musica con la solidarietà, un tour che ha portato un po' di feste e di gioia all'interno delle piazze dei nostri comuni nel quale si sono verificate delle cose bellissime, cioè le persone hanno donato, hanno fatto delle donazioni spontanee che andranno a realizzarsi con un sogno. L'acquisto di un ecografo ha portato e l'ha messo a disposizione tutte le persone che hanno bisogno in questo momento, quindi potranno utilizzarlo in forma completamente gratuita. Lo spettacolo che porta in sé il progetto Rime per un Sogno si chiama Canto l'Autore, quindi quale migliore testimonianza di un cantautore italiano che avesse anche un'attinenza con la pacatezza, anche la voglia di poter emergere dal punto di vista della solidarietà. Amedeo Minghi è stata una persona squisitissima, ha accolto l'iniziativa con una felicità in mano. Grazie. Grazie.